Continuano le riunioni a Cosenza in tema dei trasporti fra gli assessori al ramo dei comuni dell'area urbana, ovvero della città capoluogo, di Rende e Castro Libero. La nuova legge regionale in procinto di essere approvata rivoluzionerà da gennaio 2016 tutto il sistema dei trasporti in Calabria, azzerando i contratti di servizio in essere ed avviando le procedure per bandire le gare all'evidenza pubblica e a carattere europeo. Nel periodo di transizione, ovvero quello fra l'entrata in vigore della legge e l'indizione della gara, la legge regionale prevede l'istituzione di un'autorità di bacino dei trasporti deputata all'indizione della gara per la nuova gestione di tutto il sistema regionale dei trasporti e l'individuazione dei sottoambiti, uno dei quali sarà quello dell'area urbana a Cosenza, Rende e Castro Libero, cui affidare in attesa della gara la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, da cui quindi l'organizzazione di questi incontri, a cui prendono parte anche i tecnici e che dovrebbe dare un nuovo significato all'area urbana in una sorta di continuità senza limiti territoriali.